Vi racconto un retroscena Sapete da quant'è che pensavamo di fare l'e-learning? Beh, almeno due o tre anni Quest'anno, devo dire, eravamo sulla strada giusta perché già sono pronti tutti i testi per fare una serie di corsi online soprattutto per chi entrerà in azienda questo è un piccolo spoiler di una cosa che avverrà nei prossimi mesi però questa situazione che ha fatto ha preso e ha accelerato tutte le situazioni In un attimo abbiamo preso piattaforma per webinar abbiamo messo in su corsi men che non si dica e adesso ne sono pronti molti altri infatti già è previsto per i prossimi giorni e qui vi do un'anteprima testimonianze di tanti commerciali differenti che spiegheranno come affrontare al meglio questo momento qui ci sarà venerdì proprio Fabrizio Verdecchia la manager di Roma e il relatore del seminario acquisizione e gestione che farà un webinar sul tema proprio dell'acquisizione e gestione in questo momento e ci saranno tanti altri che faranno delle testimonianze su temi prettamente commerciali quindi insomma si è creata una scuola di formazione che finora rispetto ai vostri feedback c'ha una media che da 1 a 5 sta a 4,8 quindi direi eccellente quindi c'è proprio un detto dei marinai che non c'è mai un momento in cui si è pronti a partire e questo è proprio vero e per tutte le cose che state portando avanti non c'è un momento in cui siamo pronti buttiamoci perché come vediamo i risultati possono essere fantastici io resto produttivo